Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Come sapete è partito il Forum di Davos, il World Economic Forum o Forum Economico Mondiale, che si svolge nella ridente cittadina elvetica sotto la guida di Klaus Schwab, uno degli esponenti di punta della Power Elite turbocapitalista e apolide, e in questo incontro, in questo congresso dei plutocrati neoliberali sarà presente anche l'immancabile e immarcescibile Guito Zelensky, attore nato con la N maiuscola prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood. Anche il Guito Zelensky si affanna per avere il suo piccolo posto al sole, per ricordare al mondo che esiste ancora e che deve essere supportato con l'invio di armi, di munizioni e possibilmente anche di danari, da che si dice l'Ucraina rappresenta la libertà contro la Russia perfida dello zaro omofobo e rossobruno Putin. Ora, a parte il fatto che l'Ucraina non può così facilmente essere identificata con l'Eden delle libertà, dato che il Guito Zelensky, come ricorderete senz'altro, ha chiuso i partiti d'opposizione, ha imposto il canale televisivo unico, ha perseguitato la Chiesa ortodossa, dunque ben lungi dall'essere il regno delle libertà, forse sembra più coincidere con una repressiva forma di governo autoritario. In ogni caso il Guito Zelensky prova a giocarsi la sua partita a Davos per ribadire l'importanza di un'Ucraina che aspira ormai evidente a entrare nel blocco occidentale liberale e imperialistico, anzi già a tutti gli effetti lo è, anche se ultimamente va detto il Guito Zelensky è uscito un po' di scena, quasi come se fosse stato dimenticato da quella civiltà dell'hamburger che finora lo aveva utilizzato come uomo contro la Russia di Putin. Vedremo gli sviluppi, intanto segnaliamo la presenza anche del Guito Zelensky a Davos.